Wow, potrei abituarmi a una vista del genere. Sì, voglio un castello. Sono un tipo dai sogni semplici. Fai la guardia a questa? Sì. Ma quel giorno cercavo solo un posto in cui scappare. Poi mi ha colpito. Nella torre viveva una ragazza che era lì da tantissimo tempo. Sono disposta a proporti un patto. Un patto? Guarda di qua. Io voglio vedere il mondo e non solo dalla mia finestra. Prima ho detto non posso farlo. Poi ho detto sciogli i tuoi capai. Non riesco a credere di averlo fatto. Sì. Raider! Chi è lui? Uno a cui non piaccia. Supponiamo per ora che io non piaccia a nessuno dei presenti. C'è qualcos'altro che dovrei sapere di te? Ho dei capelli magici che devono essere protetti. E da che? Vogliamo la ragazza dai capelli magici. Me la devo comprare una di queste. Braccia strette. Braccia strette. Gambe larghe. Gambe larghe. Gambe larghe. È da una vita che aspetto questo giorno. E se niente di quello che ho sognato si avverassi... Eccole là! Corri! Sappi almeno che questa è la cosa più strana che io abbia mai fatto! Attenso! Sono tanti i capelli. Deve essere una giornata no per me. In genere finisce meglio. Va. Vivi il tuo sogno. Lo viverò. Il tuo sogno è una schifezza. Dicevo a lei.